Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nuvolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22, www.telnetsystems.it Un saluto da Massimo Paluzzi dallo Stadio Comunale di Alto Pascio, il torneo, il campionato regionale giovanissimi Elite. Si gioca la tredicesima giornata, si affrontano il tau calcio con la solita maglia ganata contro il Valentino Mazzolo, la squadra di Siena, che gioca con la maglia bianco celeste. Le due squadre sono al centro del campo, l'arbitro è Danilo Ricci di Pisa. Partita importante come lo sono tutte quelle che riguardano il tau calcio, anche perché la formazione del presidente Fabrizio Nieri è in testa alla classifica. Ha perduto tre punti in tutto questo torneo, una squadra che anche nella gara scorsa ha recuperato una partita che sembrava persa, con se non tre reti in pochissimi minuti. Questo chiaramente dà la dimostrazione di una formazione che dà una forte personalità guidata da Maurizio Guidotti, prima in classifica. Abbiamo visto, vediamo intanto i ragazzi con pesa la panchina che si incitano, insomma si danno un po' di coraggio. Per quello che riguarda questa partita, che dicevo è molto importante, la squadra avversaria è sesta, però la gara dicevo, il tau calcio è primo, loro sesti, però è una partita che il presidente Fabrizio Nieri, che è passato prima della partita, a salutarci considera molto difficile, molto impegnativa. Vedremo se sarà così anche in campo. Questa è una squadra, dicevo, dalle forti risorse morali, oltre che tecniche, quella del tau calcio. La partita però, dicevo, sarà sicuramente molto impegnativa. Sono partite le squadre, il tau calcio attacca da destra verso sinistra, viceversa chiaramente il Valentino Mazzola di Siena. La gara comincia subito con un certo ritmo, il Mazza per il Valentino Mazzola, deve giocare il pallone Zini sulla fascia, in avanti per Matteoni poi però perde palla. Si comincia subito a un buon ritmo questo. Questa gara, dicevo, valida per la tredicesima giornata di questo campionato, che poi giocherà ancora un turno e poi si fermerà per la pausa natalizia, come al solito. Il tau calcio che si trova prima in questo girone di campionato regionale Elite. Intanto però è Valentino Mazzola che cerca di giocare sulla tre quarti con Maiorino, la palla va fuori. Può quindi ripartire il tau calcio con la rimessa di Zini. In avanti lo stop, alza un pallone in fase offensiva, c'è uno stop, poi ancora una palla in avanti. Sul fronte sinistro dell'attacco del tau calcio, poi si libera molto bene il numero quattro senesi con eleganza. Poi però il sole lancia sull'esterno, quindi sarà una rimessa in gioco a favore del tau calcio. Conne Tocchini, che cerca un compagno libero, poi affida il pallone in avanti, il tocco di Alcoraci, ancora la palla nella zona sinistra. Ancora Tocchini che la stoppa, cerca a centro campo Benedetti che la gira, qualche difficoltà, poi un rinvio un po' affannoso. Ancora il tau calcio che cerca di avanzare, il rinvio di Finucci del Valentino Mazzola, squadra che ha, diciamo, molti giocatori del Siena. Ha anche una formazione molto attiva nel settore giovanile, come prima squadra, credo faccia la seconda giù di lì. Intanto però il tau calcio che attacca, un bel cross, la palla sfila all'interno dell'area. Il cross era stato di Benedetti, nessun giocatore del tau calcio è riuscito a impattare il pallone, la palla è sfilata attraverso tutta l'area di rigore. C'è quindi la rimessa in gioco del Valentino Mazzola, con Senesi, Paperoli conquista palla ancora Benedetti. Benedetti gioca indietro su Zini, Zini a sua volta chiama in causa Matteoni. La palla in avanti, molto brava a stoppare la palla d'Arcoraccio, poi il cross ancora, forse lungo ma c'è colpo di testa di Azzeni. Colpo di testa che però l'arbitro giudica falloso in quanto il giocatore del tau calcio si è, a giudizio dell'arbitro, aiutato con le braccia per staccare, quindi impedendo all'avversario di saltare. Quindi c'è il calcio di punizione, che il Valentino Mazzola cerca di giocare. Sembrano anche più piccoli fisicamente anche gli avversari del tau calcio, però è una buona squadra, come diceva appunto il presidente. E quindi non c'è da avere paura a Zeni, ma riconquista la palla d'Arcoraccio. La distribuisce bene su Matteoni, che però viene contrastato. Di parte quindi ancora con Bruni il Siena. Maiorino viene a prendere il pallone, come ha fatto già diverse volte in questa fase iniziale della partita. Cerca di liberarsi proprio Matteoni, che è bene con Zini, Montalti all'indietro e viene chiamato in causa Cefariello. Il portiere che preferisce rilanciare lungo, ma è Sienesi che controlla la palla. Un po' di confusione, diciamo, non è un gioco fluidissimo. La parte di là, della parte delle panchine, giocano la palla all'indietro del tau calcio. Ancora una volta Cefariello, stavolta molto più profondamente. Calcio in avanti. La palla diventa pericolosa perché rimbalza sul treno sintetico abbastanza bagnato. Non piove ora, ma ha piovuto prima. Quindi il treno sintetico che già di per sé, diciamo così, favorisce lo scipulamento del pallone. Tanto l'arbitro ha avvisato un fuorigioco del numero 11. Chiaramente aveva tutto nel campo di là, se no non sarebbe stato. E' la Serra che ha commesso questa inflazione. Batte la punizione Marsicano, che chiama in causa Benedetti, poi manovra il tau calcio. Ancora Montalti, che subisce forse un fallo, non è così per l'arbitro. E allora, per evitare i problemi, Bonini spedisce la palla nel fallo laterale. Siamo al quinto minuto di questo primo tempo. Ancora le spalle sono su 0-0, non c'è stata ancora un'occasione. Tau calcio che sembra giocare più palla a terra, più di qualità. Valentino Marzola si rinita per il momento a difendersi, ma siamo ancora alle fasi iniziali. Con qualche errore, per la verità, di misura nei passaggi. Partita che deve ancora entrare nel vivo. E c'è un fallo che viene ravvisato da parte del direttore di gara, che è Danilo Ricci, di Pisa abbiamo detto. Punizioni della quale si incaricherà Marzicano, che probabilmente metterà la palla in aria, almeno così a giudicare dal movimento dei suoi compagni. Molti dei quali si posizionano all'esterno per poi entrare velocemente in aria, uno schema un po' particolare. Così la palla è buona e colpo di testa la traversa. Colpo di testa molto molto pericoloso da parte del numero tre Tocchini, che si è ben inserito sulla punizione di Marzicano. Colpo di testa sulla parte alta della traversa. Il portiere sembrava non essere in grado di poter intervenire. Prima occasione dunque al quinto minuto per il Tau calcio. Con questo colpo di testa i Tocchini, su buona punizione di Marzicano, dalla parte opposta. Il numero 12 pallanti. Intervene sul pallone, c'è poi Tocchini, un lancio in avanti di Montalti, non è preciso. Voleva servire Arcoraci, ma il pallone non è stato ben impattato. Il pallone non è stato ben impattato, ma il pallone non è stato ben impattato. Il pallone non è stato ben impattato sul fronte destro della sua fase offensiva. Si libera molto bene il numero 9. Poi il pallone arriva in aria a Zeni, che viene anticipato disparatamente da un difensore. Il pallone è stato frutto di un contrasto. Lo stesso a Zeni va a incaricarsi della battuta della bandierina. Stavolta Tocchini, quello che aveva colpito la palla di testa, fa l'ultimo uomo. Ci saranno quindi altre soluzioni offensive per il Tau calcio. La palla è violenta nel centro dell'area, non viene toccata. Poi però il rilancio lungo viene gestito dal portiere, che distribuisce il pallone sull'esterno a Zeni, il quale fa un lancio su Arcoraci, in evidente posizione fuori gioco. L'arbitro la rileva e fischia quindi il calcio di punizione. 0-0 dunque, ma grande occasione che ci sarà il quinto minuto per il Tau calcio, col colpo di testa di Tocchini, su punizione di Marzicano. Un bel colpo di testa, la palla ha preso la traversa, la parte superiore ha attraversa. Il risultato è ancora sullo 0-0. Manovra tra o calcio che sembra aver preso in mano il reddine dell'incontro. Bene in avanti, con Arcoraci che lancia per Zeni, ma il pallone è sbagliato, molto molto distante. Zeni non accena neanche alla rincorsa perché non ci sarebbe potuto arrivare. Ci sarà la rimessa in gioco con l'invio dal fondo da parte del Valentino Mazzola. La palla cade su tre quarti, colpo di testa da parte di Matteoni. Quindi c'è Biagi che ringoria il pallone. Un contrasto fra Zeni e Maiorino, la palla del fallo laterale per Valentino Mazzola. Poi c'è un fallo, contrasto giudicato falloso da parte di Benedetti che è entrato in contatto con un avversario. La punizione è vicina alla linea del centrocampo. Però tra o calcio che ripiega lì indietro per poi ripartire. Lo fa con una palla in avanti che Biagi tenta di rincorrere ma è in vantaggio il numero 6, Magazzini. Il calcio che ritorna in possesso del pallone, ci sarà un fallo laterale vicino alla bandierina del quale si incaricherà Zeni. Il calcio che attacca in massa, così come ha ripiegato quasi tutti i suoi effettivi. Una squadra che quindi cerca di essere molto corta e comunque tornare all'indietro nei casi in cui ci sono situazioni pericolose. Decimo minuto ancora 0-0, tra o calcio che attacca. Valentino Mazzola che cerca di ripartire in contropiede, per il momento non c'è mai riuscita, solo con lanci lunghi che hanno obbligato il partiere a uscire ma con i piedi fuori dall'area di rigore. Il calcio che riparte, vince un contrasto, Biagi che lancia Arcoraci, Arcoraci sulla fascia a destra, si deve liberare di un avversario, sceglie di passare indietro per Matteoni. Matteoni non riesce a passare il pallone, però ancora il calcio in avanti con Arcoraci. Al limite dell'area, il giocatore cerca di entrare in area in questo momento, ci controlla l'avversario, lascia la palla in avanti. Poi c'è il cross, il portiere non prende il pallone, è un'occasione pericolosa per il tau calcio. In qualche modo però Valentino Mazzola si libera della palla e il pallone va fuori. Il portiere è riuscito, diciamo, chiamando il pallone ma non prendendolo. Ne è nata una mischia che ha visto i giocatori cercare il pallone, però alla fine i difensori in maglia bianco celeste sono riusciti a rinviare. E quindi l'occasione per il tau calcio sfuma. Valentino Mazzola che lavora, un pallone sulla propria tre quarti. Poi ancora Maiorino che è uno dei più attivi dei suoi, torna indietro. Ma il tau calcio che sviluppa un'azione offensiva, con una palla per Arziani forse un po' lunga, prova a rincorrere dal giocatore, non ce la fa. Nonostante la generosità, non è riuscito a mantenere la palla in campo. Un pallone più lento sarebbe stato molto pericoloso perché il giocatore era praticamente già in aria e già in una posizione molto ravvicinata rispetto alla porta. C'è il rinvio del pallone lunga, interviene sul pallone non benissimo Bonini, la palla va in falo laterale. C'è dunque la rimessa in gioco per Bruni che cerca Maiorino. L'abitro però inverte il pallone laterale, lo fa rettificare e lo assegna agli altri perché il giocatore aveva battuto con molti metri di distanza dal punto effettivo in cui era uscito il pallone. Quindi c'è la rimessa in gioco a fuori il tau calcio. Tau calcio che manovra sulla propria linea difensiva, però viene girato sull'esterno a Tocchini. Tocchini viene invitato a giocare il pallone dal portiere e lo fa. Poi non si intendono Biagi e Alzeni. Può quindi ripartire Valentino Mazzola con Serra che va alla ricerca della palla. Serra poi dà una spinta all'avversario che è Marsicano. L'abitro non l'avvisa le menti per fischiare il calcio di punizione, c'è quindi la rimessa in gioco per Valentino Mazzola che si affaccia dalle parti dell'area di rigore del tau calcio. Lo fa per pochi secondi, poi sbaglia il contatto col pallone. Il numero 4 senesi la pallava fuori. Tocchini dunque sarà rimessa in gioco dal giocatore. Il numero 7 Burroni e poi per evitare guai peggiori Bonini butta la palla in falo laterale. Quattordicesimo minuto di questo primo tempo, ancora 0-0. Mazzani gioca bene il pallone indietro ma il rilancio è intercettato. C'è quindi una palla lunga che poi favorisce il contropiede del tau calcio. Bravo però Mazzola a intervenire. Mazzola si avvicina al limite dell'area. Senesi manda in avanti, contrasta al limite dell'area. Montalti per Azzeni. Poi il pallone ancora in avanti. Per quanto riguarda la squadra di Siena. Esce però Azzini che lancia in avanti su Arcoraci. La palla poi sfila verso il portiere del pallanti del Valentino Mazzola di Siena. Che fa solo il pallone chiamandolo e poi calcia il rinvio. Ma il tau calcio ancora a gestire il pallone, andare in avanti con Azzeni. Azzeni in avanti, subisce un contatto. Poi c'è ancora un contrasto. Secondo l'arbitro in gioco pericoloso. Dunque c'è il calcio di punizione per la formazione di Siena. Si incarica del calcio Bonechi. Anzi si tratta di Finucci, la quale è in avanti. Può ripartire il contropiede del tau calcio. Vediamo una linea ben messa da parte della squadra di Siena. Che è molto coperta. Conoscendo la qualità della formazione del tau. Giocano con quattro sempre fermi ancorati dietro. E questo chiaramente impedisce uno sviluppo di contropiedi veloci. Perché se il Mazzola attaccano in meno, difendono però con tutti gli effettivi possibili. Anche ora per esempio a fronte di due giocatori del tau calcio. Ce ne sono quattro del Valentino Mazzola. E questo chiaramente fa sì che il tau calcio per arrivare alla porta e cercare di segnare. Deve sviluppare una azione manovrata. Difficilmente lo farà durante questa gara. Se non cambiano atteggiamenti tattici lo farà, dicevo, difficilmente con dei contropiedi. Mazzicano ha un calcio in punizione. Sceglie la soluzione esoterra. Mattioni la gira per Zini. Zini gioca sul fronte dell'offensivo. Mentre una palla al centro un po' lenta. Viene intercettata dai difensori. Però ancora Zini torna in possesso della palla. Si libera bene di un avversario e conquista un calcio d'angolo. Una buona azione dell'esterno basso della formazione del tau calcio di Maurizio Guidotti. C'è dunque un calcio d'angolo. Il secondo per il tau calcio. Vediamo Guidotti che sarebbe moltissimo per una mancata copertura difensiva. Poi c'è ancora un fischio. Non abbiamo capito perché. Da parte del direttore di gara è stato forse fallo di confusione. Però non sembrava che fosse stato un fallo particolare. 18 minuti di questo primo tempo. Ancora punteggio e fermo sullo 0-0. Tau calcio che ha avuto una buona occasione al quinto minuto con un colpo di testa e tocchini. Poi però la grande attenzione difensiva da parte della formazione di Siena sta impedendo che ci siano particolari occasioni e opportunità per quello che si riferisce. al tau calcio. Il Valentino Mazzola non ha ancora tirato una volta in porta. È solo uno di questi ultimi momenti. Si è un po' affacciato davanti ma senza mai arrivare in aria. Intanto c'è un fallo che l'abito non ravvisa nei confronti di Alcoraci che viene preso per la maglia. Lo stesso giocatore numero 11. Tocca il pallone che va fuori. È sempre il Monsensienese che cerca di avanzare. Poi Zini calciano avanti. Un pallone che però arriva direttamente al portiere che lo raccoglie e lo distribuisce a finucci sulla fascia destra il quale a sua volta anche lui va per un calcio lungo. Stavolta il colpo di testa di Serra Palla come se vuol dire spizzata. Cerca di servire Maiorino Palla che mette un po' in difficoltà al portiere perché rimbalza. Ma è bravo Cefaniello Cefaniello dicevo a intercettare la palla poi esce fuori il pallone di Montalti. Dunque rimessa laterale per quello che riguarda Finucci che cerca un compagno e Serra che ancora di testa cerca Maiorino secondo uno schema già visto diverse volte in questa gara Senesi gioca bene un pallone chiama in causa Mazza il quale a sua volta mette in movimento Bruni che cerca di entrare in aria poi c'è Zini che tocca la palla in calcio d'agona anche stavolta c'è stata una spinta nei suoi confronti l'arbitro non ha fischiato il giocatore non ha nemmeno accentuato più di tanto questo contatto primo calcio d'angolo per gli ospiti la palla spiove il portiere la chiama ma è un po' in ritardo poi però torna bene sul pallone recuperando la sfera Cefaniello aveva chiamato la palla però era lenta poi è stata alzata il portiere che aveva già fatto 3-4 passi in avanti è riuscito a bloccare la sfera e a rinviarla con un lancio lungo i difensori toccano il pallone poi i burroni poi ancora è Maiorino che manovra il pallone subisce fallo secondo l'arbitro forse per lui era meglio avere la possibilità di continuare c'è quindi un calcio di punizione poco oltre il cerchio di centro campo del quale si incarica Mazza palla in avanti si muovono i giocatori la chiama al portiere del tau calcio e la fa a sua senza difficoltà l'invio colpo di testa di Senesi Zini per Montalti poi però la palla è sull'esterno non ce la fa tenerla in gioco il numero 7 il numero 8 Benedetti appunto il numero 8 la gioca diciamo sulla fascia esterna e mentre più all'interno c'è il numero 7 Matteoni è stato un piccolo cambio effettuato appunto tattico da parte il tecnico per cercare un po' di modificare l'assetto di questa squadra che pur giocando diciamo discretamente bene non riesce per il momento a creare particolari presupposti per portarsi vantaggio a parte quella punizione lunga che ha generato il colpo di testa di Tocchini intanto però a Zeni sulla fascia mette una palla dentro Finucci per evitare problemi la spedisce in calcio d'angolo ancora un tiro dalla banderina per il tau calcio al 22esimo sempre ancora punteggio di 0 a 0 va a battere Matteoni il Mazzola lascia solo un giocatore in avanti la palla è lunga il colpo di testa però di Zini e poi ancora la palla di Nill era piccola Matteoni la può rimettere sceglie una soluzione esterna forse faceva meglio rimettere visto la presenza di tanti suoi compagni Zini cerca di liberarsi ancora sulla fascia ci riesce va al cross viene contrastato la palla non va neanche in fallo laterale e sono i ragazzi di Siena a calciarla poi la palla carambola su piedi dello stesso Zini andando sull'esterno e quindi ci sarà una rimessa laterale per la formazione del Valentino Mazzola ma è calcio con Montalti poi Alcoraci la palla è per Benedetti non l'aggancia e termina fuori un po' di disappunto in panchina in tribuna ma la partita è molto chiaramente la squadra di Siena è venuta a difendersi prevalentemente e si vede anche dal punto della situazione in cui i quattro sembrano appunto fissati sul campo con dei bulloni che non si muovono assolutamente mai anche quando gli avversari sono uno o due restano sempre fissi tutti e quattro dietro come in questo momento ad esempio Tocchini ha difficoltà di liberarsi dalla palla gira indietro ancora Tocchini in avanti la palla sfila a Zeni la può battere con velocità servire Biagi Biagi però contrastato da Magazzini la palla va fuori e c'è dunque la rimessa dal fondo al ventiquattresimo del Valentino Mazzola di Siena Burroni Senesi con gioca con Burroni poi la palla va avanti ed è Matteoni ora che cerca il lancio lungo alta ricevendo gli improbri del tecnico che arrivano fin qui di Maurizio Guidotti che chiede al giocatore di giocare del pallone e non di sparare la via alta anche perché come abbiamo detto prima con una situazione diciamo disposizione della formazione senese difficile che con un lancio lungo possa essere messa in difficoltà sarà necessaria un'azione diciamo così sulla fascia o quantomeno un'azione avvolgente che possa attrarre fuori i giocatori per arrivare al tiro Tocchini poi Montalti in avanti per Azeni che però non arriva sulla palla e c'è dunque ancora una rimessa in gioco quando siamo esattamente al 25esimo di questo primo tempo ancora 0-0 solo una traversa per il tau calcio poi poco altro un paio di cross pericolosi un paio di situazioni in cui il portiere ha avuto difficoltà a antecettare delle pallone alti non c'è stato niente di particolare con gli ospiti che sono fatti vedere in avanti in azioni sporadiche con qualche tocco che lancio lungo però niente di particolare solo uscite alte per il portiere ceffariello intanto c'è un fallo fischiato nel confronto di Bruni parla lunga dunque c'è una Matteoni che è smista su su Benedetti ora la palla è per Tocchini Tocchini chiede la collaborazione di Azzeni ancora Tocchini si lanciano avanti viene probabilmente accettato e c'è dunque un po' un'azione confusa con la palla alta poi però è Montalti che chiama in caso Matteoni che ora gioca diciamo più centrale Salbezzini la palla però termina fuori e quindi c'è la rimessa in gioco da parte della formazione di Siena la palla Burroni Burroni di prima per Senesi Senesi lanciano avanti la palla però è facile preda del portiere Cefariello che non ha difficoltà a recuperare il pallone e a rinviarlo colpo di testa a seguire vediamo la palla che viene alzata forse in modo improvvido a Senenti circa di intercettare il pallone poi Senesi va alla caccia e combatte con Montalti e c'è un fallo poi fischiato dall'arbitro che ha visto una irregolarità c'è quindi una situazione intanto di scarpe da parte di uno dei tocchini intanto però c'è l'attacco di Bruni il pallone va fuori rientra in campo Cocchini intanto Maiorino va a ricevere il foro laterale alza la palla sul limite dell'area Senesi combatte con Montalti può ancora un lancio lungo un lancio lungo che però viene sempre preso dai giocatori del Valentino Mazzola quindi ci sarà ancora un'azione che vede Senesi uno dei migliori dei suoi alzani calcia ma viene contrastato poi Zini su Benedetti Benedetti sul fronte destro dell'attacco del tau calcio attacca con una percussione centrale Matteoni il suo tiro viene contrastato poi ancora un altro tiro molto bello c'è il calcio d'angolo una bella conclusione del numero 11 dovrebbe essere Alcoracica che ha calcianze forse il 9 secondo me Biagi che ha calciato insomma uno dei due Biagi che ha calciato anche così appunto che è stata deviata una bella conclusione che sarebbe stata pericolosa per il portiere la palla si è alzata ricadendo poco oltre la trasversale però ancora nulla di fatto calcio d'angolo il colpo di testa mancato da parte di un giocatore del tau si trattava di Biagi che ha sferrato il pallone e l'arbitro ha fissato il solito fallo di confusione mentre rimane a terra Matteoni e il direttore di gara chiede l'intervento dei sanitari e quindi c'è questo questa pausa intorno al trentesimo minuto ne mancano cinque appunto alla fine della prima fazione di gara Matteoni sembra recuperare si rialza anche se ha qualche difficoltà di movimento ci sarà comunque la punizione per questo fallo fischiato l'ennesimo fallo di confusione fischiato dal direttore di gara che quando vede un po' di contatti va subito a sanzionarli intanto c'è il contrasto di Finucci con un giocatore del tau calcio mentre Matteoni è sempre fuori dal campo tau calcio quindi diciamo così per il momento in dieci mentre un giocatore si sta alzando la panchina per scaldarsi probabilmente Matteoni non ce la fa comunque ha dei problemi seri intanto viaggino avanti bene affrontato da magazzini che calcia il pallone sull'esterno e lo manda fuori sembra che non riesca a recuperare quindi ci sarà un cambio forzato in questa no no il massaggiatore dà chiari segnali che il giocatore non è in grado di proseguire l'incontro quindi ci sarà un cambio intanto il portiere pasticcia la palla è sempre lì la palla è in fallo laterale vicino dove è Matteoni che sta facendo curare il portiere ha chiamato la palla non è riuscito a bloccarla e il pallone è rimasto intanto c'è il cambio esce appunto abbiamo detto Matteoni entra con il numero 16 Cinci vedremo che posizione assumerà se Benedetti tornerà a fare l'interno di centrocampo Cinci sull'esterno oppure se verrà mantenuta la stessa conformazione precedente dovrebbe essere così cioè Cinci va a occupare un posto di centrocampo almeno in questa prima fase ci sarà da recuperare almeno un minuto per quello che riguarda questo infortunio a Matteoni che è dovuto uscire intanto c'è un cambio la rimessa in gioco un controfallo perché non è stata affettuata nel migliore dei modi Tocchini allora la batterà burroni di testa nonostante sia il più piccolo di statura l'arbitro avvisa un altro fallo molto spesso è stato all'incontro molti falli fischiati mentre vediamo che Matteoni lascia il terreno di gioco chiaramente non contento speriamo che non sia niente di grave che sia un infortunio momentane intanto Biagi ha più un bel pallone all'interno dell'area la passa all'indietro c'è il tiro di Benedetti viene contrastato prova a ripartire ma Cinci nuovo entrato distribuisce bene su Zini che va sull'out sinistro e c'è la rimessa in gioco per il tau calcio anzi no la rimessa in gioco è per la formazione di Siena quindi quando mancano un minuto al termine regolamentare della prima frazione di gara siamo sempre su 0-0 tau calcio che fa fatica ma l'aveva detto il presidente prima della partita sarebbe stata una squadra difficile a Zeni Zini sulla palla in avanti per Biagi che la prolunga per Alcoraci poi indietro per noi è entrato Cenci che sembra subito entrato in partita nel senso che si fa vedere nel vivo del gioco l'arbitro dà appunto un minuto di recupero e c'è e c'è quindi la palla in avanti per il tau calcio un pallone che viene alzato un po' montalti Alcoraci vediamo che fa la classica foca con il colpo di testa più di circostanza subisce forse un contatto c'è un po' di confusione all'interno dell'aria poi arriva il tiro a Zeni svilgolando il pallone piacevole l'azione tecnica di Alcoraci che di testa ha toccato più volte il pallone quello che viene definita appunto la foca in termini calcistico tanti anni fa ne fu protagonista Nappi cose che vengono ricordate nel corso del tempo più magari di gol siamo gli sgolci del primo tempo ma il tau calcio ci prova ancora arbitro ora fischia e fischia alla fine dell'incontro perché è scaduto anche il tempo di recupero però prima fischia una punizione a favore del Valentino Mazzola anzi no c'è foro laterale benedetti per Cenci Cenci porta un po' troppo palla poi alla fine arriva il fischio il duplice fischio che sanziona il termine della prima frazione di gara con il tau calcio Valentino Mazzola ancora ferme sullo 0 a 0 telnet systems vendita installazione e manutenzione di centralini telefonici fibre ottiche videosorveglianza sicurezza di rete e networking richiedi subito un preventivo telnet systems via Tazio Nuvolari 53 Carraia Lucca telefono 0583 98 33 22 www.telnet systems.it riprende il secondo tempo di questa partita valida per trecenti di smaggiornare il campionato giovanissimi regionali elite fra tau calcio e Valentino Mazzola di Siena primo tempo non esaltante finito 0 a 0 con una sola diciamo grande occasione un colpo di testa di tocchini che ha preso la traversa poi manovre confusionari insomma gioco che non ha esaltato anche se il tau calcio è quello che chiaramente ci ha provato di più Valentino Mazzola bloccato all'indietro cercato qualche ripartenza senza però particolare convinzione mentre invece questa è già un'occasione pericolosa che però il passaggio errato di Serra vanifica Maiorino si era defilato sulla parte sinistra del suo attacco c'è stato però il passaggio sbagliato che ha impedito al giocatore di essere pericoloso c'è stato anche un infortunio di Matteoni che è uscito Jacopo Matteoni che è uscito intorno al trentesimo del primo tempo per una un colpo che ha subito intanto il tau calcio si proietta in avanti un colpo comunque un problema muscolare qualcosa del genere il giocatore è rimasto a terra poi ha abbandonato l'incontro è entrato allo suo posto Cenci pochi comunque di spunti di cronaca di questo primo tempo che è stato così combattuto ma nient'altro un puntista spettacolare ha regalato poco o niente vediamo cosa succederà il tau calcio ricordiamo è primo in classifica squadra che ha fatto vedere grandissime cose in un'ultima domenica dove si trova sotto per 3 a 0 ha saputo reagire in un modo veramente fulminante tau calcio che è chiamato dunque a superare una formazione che è sesta in classifica a distanziata di 10 punti insomma non è una brutta squadra non ha fatto cattivi risultati però sulla carta diciamo la calcio è migliore quanto meno doveva provare con più insistenza la vittoria cosa che non è accaduta fino a questo momento Cefariello gira il pallone su Tocchini Tocchini lo gioca sulla fascia sinistra chiamando Azzeni all'attacco poi però arriva Arcoraci Benedetti bella la combinazione di Tocchini però arriva il pallone di Cenci un po' alto però i Granato sono sempre in avanti Azzeni prova a liberarsi a calciare viene contrastato mancato controllo di palla di Cenci dalla parte della difesa del Tocchini c'è Marsicano che insieme a Cefariello il portiere sbroglia questa situazione e c'è un pallone filtrante che Biagi prova a rincorrere sono due gli avversari uno di questi mette il pallone in fallo laterale mentre si affaccia a un timido sole e c'è un cambio esce il numero 7 Burroni entra il più prestante fisicamente ma non necessariamente più bravo numero 15 Giovanni Finucci i Finucci quindi sono due il numero 2 Edoardo e il numero 15 Giovanni la palla per il fronte offensivo del Tocalcio c'è un calcio d'angolo terzo minuto di questo secondo tempo ancora 0-0 Cinci va a battere il tiro della bandierina i giocatori che stavolta sono tutti nel cerchio intorno al discritto del rigore la palla infatti cade lì c'è il colpo di testa il pallone salvato sulla linea c'è stato un colpo di testa e poi una conclusione di un giocatore del Tocalcio il portiere sembrava battuto ma un difensore sulla linea è riuscito a toccare il pallone impedire che la sfera terminasse in gol quindi un'altra occasione diciamo da rete mentre c'è il contropiede del Valentino Mazzola Zini ingaggia un duello fisico con il suo avversario alla fine mette la palla nel foro laterale però ha gestito bene questo pallone che poteva essere anche pericoloso Maiorino il rilancio di Bonini Finucci Senesi Mazza ancora Senesi Benedetti poi cambia gioco bene per Zini che ha corso molto in questo primo tempo essendo uno dei più diciamo attivi e lo stesso Zini conferma quanto stavo dicendo andando a recuperare un pallone importante poi però è molto prevedibile il passaggio di Montalti che viene infatti intercettato da un avversario e poi arriva il calcio d'angolo a Rasenesi anche questo è uno dei migliori giocatori della sua squadra calcio d'angolo si avvicinano tutti gli elementi più prestanti del Valentino Mazzola per il colpo di testa abbatterlo sarà Senesi stesso quello che lo ha praticamente conquistato nessuno del tau calcio resta in avanti tutti sono a difendere la propria area con una difesa zona diciamo così poi però c'è un contrasto ancora Senesi conquista un altro calcio d'angolo non sembrava però invece l'arbitro è di diversa abisa quindi al sesto minuto di questo secondo tempo il tau calcio deve fronteggiare un angolo ma non si sa che succede il cross è stato fatto tutti fermi il portiere aveva preso la palla però vediamo come si dispongono proprio tutti su due linee il tau calcio poi sbaglia il pallone può partire in contropiede Cenci circondato dall'avversario uno di questi ruba la palla poi però viaggi ancora in contrasto con Finucci poi Montalti la palla in falo laterale ancora a favore della squadra di Siena c'è stata questa occasione appunto del terzo minuto di questo secondo tempo questo colpo di testa poi contestato poi un tiro verso la porta di pallanti il pallone è stato rispinto da un difensore sulla linea a portiere battuto esce intanto nel tau calcio a Zeni numero 6 ed entra con numero 18 Caselli è però il Valentino Mazzola di Siena con Senesi prova ad andare in avanti palla fuori rimesso in gioco di Finucci per Maiorino che va sempre a raccogliere questi questi falli laterali però Finucci perde la palla e poi partire il tau calcio con Biagi che chiama in causa Benedetti sbaglia però si addormenta anche Montalti il tau calcio che personalmente vedo per la prima volta non tutti però qui quelli che diciamo vengono a vedere frequentemente la squadra dicono giocare molto al di sotto delle sue possibilità del resto è una squadra che è prima con un consistente vantaggio quindi evidentemente ha delle molte qualità oggi non le ha espresse tutte per chi appunto come è stato scritto vede per la prima volta questa squadra insomma non è che sia da esaltarsi per quello che si è visto oggi sicuramente hanno giocato meglio in altre circostanze una pausa una flessione per chi è sempre primo che è primo dall'inizio dell'annos e addirittura era appunto giupino fino a poco tempo fa insomma è anche naturale e quindi non c'è neanche da preoccuparsi rimette in gioco il e c'è ancora un cambio fallo perché il giocatore ha guadagnato molti metri infatti l'arbitro guardava in attesa di fischiare la palla va messa in gioco in modo diverso nel senso una posizione diversa tanto Biagi Tocchini dalla parte di là combatte poi riesce a liberarsi bene la palla per Biagi il tiro il portiere il portiere in modo un po' diciamo esteticamente non bellissimo però efficace la prima parata dei piedi è poi andata a recuperare con le mani il tiro di Biagi è una buona azione di Tocchini sulla fascia molto caparbia Biagi aveva calciato bene il portiere così in modo estemporaneo l'aveva preso col piede il portiere è tornato sul pallone nonostante l'attacco di un paio di giocatori del tau calcio che quindi comincia un po' intensificare la sua azione offensiva c'è intanto un cambio c'è il numero 11 Serra vediamo chi entrano ci sono segnalazioni visive ci sono mi aspettare i sigili il giocatore in sintesi è il numero 18 di Marco decimo minuto di questo secondo tempo il tau calcio che ha avuto un paio di occasioni già sta un po' aumentando il suo ritmo probabilmente l'intervallo è servito per chiarirsi un po' le idee e c'è intanto una bella azione di di Casella che manda anzi di Biagi che manda avanti Casella che però Biagi mi pare uno dei più intraprendenti della squadra del tau calcio aveva mandato davanti Casella però la palla è stata lunga il portiere è riuscito a intercettare senza problemi Maiorino ancora sul pallone la palla è per Bonini che la gira con qualche rischio poi arriva Marzicano che chiama in causa Cefariello che fa un invio molto lungo Benedetti poi che è diventato capitano dopo l'uscita di Matteoni si invola sulla fascia viene contrastato c'è la rimessa in gioco a favore del tau calcio che sembra giocare con molta più personalità in questo secondo tempo intanto entra con il 17 imperato esce con il numero 11 Arcoraci che non ha fatto vedere tantissimo imperato un giocatore considerato molto molto valido vedremo se confermerà quelle che sono le aspettative che ci sono sempre su di lui intanto nel tau calcio con Cenci cerca di rimediare contrasta poi ecco Caselli che va al tiro tiro la buona idea insomma buono il pallone è alto va fuori dalla traversa dodicesimo ancora 0-0 ma tau calcio più vivo nel secondo tempo più quantomeno più pericoloso ecco Biagi ancora il tiro viene contrastato Biagi è quello che ci sta credendo di più mi pare della sua squadra quello che ha cercato di mettere più in difficoltà è che è arrivato al tiro con tre volte i pallanti arriva poi una palla filtrante il portiere la perde il primo momento poi la recupera era una palla diciamo che aveva molto effetto che è stata una calciata in aria il portiere i pallanti in qualche modo è riuscito a prenderla in qualche modo nel senso che girava il primo impatto gli è sfuggito dalle mani però è riuscito a fare la sua così come il cefaglielo della parte opposta che si appesta all'invio quattordicesimo ancora 0-0 calcio che ora però meriterebbe qualcosa di più dopo un primo tempo che qui qualche genitore definiva inguardabile mi sembra che ora insomma ci sia qualcosa di più però ci sono tanti errori uno di questi mette in movimento il numero 8 Mazza poi Finucci ma è imperato che lo che lo bracca ancora la palla in fralaterale qualche difficoltà quando manovra il Valentino Mazzola di Siena ci sono dei problemi per loro nel senso che non trovano spazio hanno qualche difficoltà di palleggio molto più fluida l'azione del tau calcio vediamo ora Finucci che gioca la palla poi reclama un fallo di Bonini che per l'abito non c'è pallone in aria e c'è solo e il palo addirittura colpito da Di Marco non so se il portiere ha toccato prima o no il pallone perché il corpo del portiere ci impediva di vedere però insomma la palla piccata nel palo di sicuro e quindi in contropiede c'è stata questa occasione e questo diciamo pareggio del conto di del palo ancora un'azione in aria e un minuto diciamo con due occasioni per Di Marco la prima palla nel palo il secondo sarà contrastato ma era penetrato in aria molto pericolosamente vediamo Zini subisce il fallo parte parte Bruni ma c'è quindi la rimessa in gioco il calcio di punizione a favore del calcio quando siamo al quindicesimo di questo secondo tempo 0-0 ma ci sono state diverse occasioni in questa seconda parte dell'incontro l'ultima delle quali diciamo le ultime due delle quali sui piedi di Di Marco del Valentino Mazzola di Siena con un palo e anche una situazione diciamo pericolosa in aria sbrogliata con molta difficoltà dai difensori della squadra Granata comunque ancora 0-0 partita però nel secondo tempo molto più vivace molto più divertente vediamo Riempirato che poi si è venuta con le braccia nei confronti di Sienesi l'arbitro lo vede e fisca un fallo c'è quindi un calcio di punizione anzi no è un calcio di punizione per il tau calcio abbiamo capito alla rovescia cerca di forzare un po' i tempi la squadra Maglia Granata che ha diciamo così ha avuto delle occasioni però ha anche subito due contropiedi pericolosi credo che non ho capito è successo qualcosa non so se è successo in panchina è stato un cambio mi pare di aver capito perché è entrato Carlini è uscito Cenci forse se non ho capito male è entrato sì numero 15 Carlini è uscito numero 16 Cenci una scelta un po' strano il giocatore è entrato da non molto comunque sia c'è questo nuovo modifica l'imperato di petto Biagi indietro palla ancora per l'imperato in area che di testa la prolunga bene per il numero 18 che però Caselli la colpisce molto debolmente magnificando una bella azione del tau calcio di prima con palla aerea e c'è stata questa occasione intanto però sono pericolosi in contropiede anche gli ospiti e deve uscire Cefariello di piede fuori aria per intercettare il pallone ancora Sinesi partita che è cresciuta di tono in modo molto netto e anche Valentino Mazzossi si è affacciato con pericolosità dalle parti dalle parti del portiere Cefariello con un palo addirittura colpito forse però grazie anche alla diversione del portiere intanto Caselli Caselli si libra con forza del suo giocatore del suo avversario lo stesso giocatore attacca la palla poi c'è il fallo laterale Mario numero 3 aveva gesto l'intervento dell'arbito che non c'è stato abbiamo benedetti un po' di confusione alla fine il fallo laterale viene assegnato ancora al tau calcio forse non era forse non era rimessa in gioco e comunque del tau calcio vediamo ne è entrato Carlini che gioca la palla c'è ancora una rimessa in gioco anzi però stavolta è per i senesi Maiorino calciano avanti tocchini imperato libera va al tiro la palla è insidiosa c'è forse il tocco del portiere il portiere che non ha un grande stile ma insomma il pallone li tocca tutti e questo per il momento è importante ancora un calcio d'angolo dunque per il tau calcio siamo al diciannovesimo di questo secondo tempo 0-0 la palla ancora una mischia ancora un calcio d'angolo per il tocco di Finucci in 1-2 Benedetti va alla battuta l'assemblamento in aria sono quasi tutti i giocatori del tau calcio la palla è insidiosa portiere la buca ancora un palo palo colpito da Caselli comunque era in zona tocchini poi c'è imperato che è entrato con grande voglia in campo e la palla ha colpito il palo è il terzo palo della partita due a favore diciamo così del tau calcio e uno per i senesi del Valentino Mazzola questo chiede è veramente portiere battuto non mi sembra che Caselli abbia toccato il pallone poi ha toccato il pallone però c'era il palo che ha respinto il colpo dopo che la palla era sfilata il portiere non aveva riuscito a prenderla intanto c'è un cross di Benedetti molto lento che il portiere fa il suo però la partita diciamo nel secondo tempo è stata molto molto più divertente molto molto più interessante sotto ogni profilo Zini cerca di recuperare non ce la fa e c'è dunque la rimessa in gioco Luca è rimessa in gioco per Valentino Mazzola l'arbitro si fa sentire nei confronti di Zini che ha diciamo in certo senso salontanato il pallone vediamo Carlini ora che dà la palla in avanti c'è però il fallo laterale e c'è un altro cambio anzi duplice cambio esce il numero 2 Zini molto provato e il numero 4 Bonini entrano Leonardo Chiti numero 13 e Lorenzo Landi numero 14 giusto l'avvicinamento di Zini non perché abbia giocato male tutt'altro ma perché sembrava particolarmente stanco aveva fatto la fascia molte molte volte e dunque fa bene il tecnico a cambiarlo memore anche di quanto ho fatto l'altra domenica quando a Scandici perdi altri a zero con 5 cambi 3 di questi 5 cambi hanno realizzato i gol del pareggio è però pericoloso anche il Valentino Mazzola e per non correre rischi Chiti mette la palla in fallo laterale tempo passa ancora 0-0 22esimo il tau calcio che è andato vicino al gol in modo più insistente però abbiamo detto anche il Valentino Mazzola di Siena non ha avuto non è stato a guardare specialmente con il nuovo entrato di Marco ha messo in difficoltà la difesa del tau calcio con ha preso un palo è avuto un'altra circostanza favorevole però è il tau calcio che si fa preferire anche Caselli è entrato molto bene anche ora sta giocando la palla subisce un fallo mentre stava cercando di calciare quando forse era preferibile che distribuisse il pallone il tau calcio che ci riprova c'è un fallo ai danni del numero 8 il capitano Benedetti una specie di corner spostato di qualche metro la palla che sarà sicuramente messa al centro dell'aria una situazione che ha creato molti pericoli per la difesa del Valentino Mazzola che ha generato anche due pali in due circostanze diverse vediamo il cross di Benedetti la palla nel centro dell'aria interviene Finucci di testa poi si è avuta un po' con le mani per l'arbitro il numero 14 Landi c'è qui l'incalcio di punizione con tutto il tau calcio riversato nella metà campo avversaria e c'è un cambio esce il numero 10 Bruni entra un 1-16 Provvedi Giorgio Provvedi il tiro di Finucci è stato sbagliato può ripartire il tau calcio Biagi di testa su Caselli che chiama in causa imperato il giocatore non può antecitare la palla ma il difensore la mette in fronte laterale tau calcio in forcing in questa fase ancora Benedetti in aria va al tiro viene contrastato il portiere tocca il pallone poi alla fine riescono a evitare anche il calcio d'angolo perché il difensore che stava calciando è stato contrastato da imperato che ha quindi toccato per ultimo la sfera che è uscita sul fondo perde un po' di tempo ora il Valentino Mazzola per il quale chiaramente il pareggio sarebbe un grande risultato sul campo di Alto Pascio ne mancano 10 alla fine di questo secondo tempo della partita vediamo anche Guidotti che accelera il recupero del pallone è stato calcio che cercherà di dare tutto e per tutto vediamo imperato il cross la deviazione e non c'è neanche calcio d'angolo perché c'è la rimessa in gioco perché Finucci riesce a evitare che la palla ad altri passi la linea di fondo anzi invece non è così l'arbitro ha visto il calcio d'angolo quindi lo assegna è ancora Benedetti dalla bandierina il calcio che prova anche con le palle la ferma a intervenire e c'è il colpo di testa ancora Finucci sulla linea è stato sfortunato Carlini aveva indirizzato bene la palla dalla parte opposta dove era posizionato il portiere però ancora una volta sulla linea il bunker difensivo del Valentino Mazzola è riuscito a intervenire intanto arriva il pallone c'è ora il gol arriva di Carlini con un calcio con un tiro diciamo di interno e se lo meritava anche lui dopo che un minuto fa aveva ma nemmeno un minuto diciamo aveva subito aveva visto respingere sulla linea il suo colpo di testa è arrivato l'occasione in cui insieme a Benedetti abbia spostato bene il pallone su Carlini che era solo sul vertice ha calciato la palla ha superato il portiere che forse poteva fare qualcosa di più comunque il vantaggio del Tau è meritato e al 26esimo arriva il gol mentre entra anche Shakiri nome nobile del calcio al posto di Edoardo Finucci Shakiri solamente omonimo diciamo non credo neanche parente di quello del Bayern oggetto di interesse di tante squadre importanti comunque sia Tau Calcio in vantaggio meritato dobbiamo dire e quindi minuti finali della gara che saranno palpitanti non credo che potrà modificare il suo assetto di gioco la formazione del Siena abbiamo imperato intanto nel vertice dell'area Tau Calcio che però non si torna indietro ma cerca di fare anche il secondo Benedetti tenta un calcio al volo difficile ha fatto bene però la palla poi viene lanciata in avanti dalla difesa del Siena il colpo poi arriva Carlini in avanti Tocchini per Caselli 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 da un calcio dietro molto pericoloso nel senso che poteva generare almeno un cartellino o qualcosa di più anche l'arrivo però per questo momento non ha mai ammolito nessuno partita comunque molto tranquilla e corretta questo bisogna dirlo andiamo Tocchini in avanti di sinistro di destra scusate palla fuori minuti che scorrono siamo ora al ventottesimo ne mancano sette alla fine di questo secondo tempo quindi della partita Tocalcio che ha colpito due pali ha avuto delle occasioni e poi alla fine ha centrato il gol al ventisesimo con Carlini all'attivo della squadra avversaria un palo ripeto non abbiamo visto bene se determinato anche da una bella parata di Cefariello comunque sia la palla poi ha terminato la sua corsa sul palo Cefariello con il corpo ci impediva la visione quindi il portiera era comunque sul pallone quindi è presumibile che l'abbia toccato sul palo e dunque c'è poi c'è stata una serie di azioni del Tocalcio molto importanti ha un palo due rispinte sulla linea fino a che poi è arrivato il gol di Carlini al ventisesimo che sicuramente ha diciamo messo sui binari della giustizia diciamo così il risultato di questa gara ne mancano sei ore alla fine della partita chiaramente Valentino Mazzoli si è tenterà di recuperare il Tocalcio però non è che si sta difendendo cerca ancora di proseguire nel suo gioco d'attacco era questa una gara difficile lo sapevo ce l'aveva detto Fabrizio Nieri presidente e però vabbè è una è stata una gara difficile il Tocalcio però ha giocato con grande voglia e nel secondo tempo in modo particolare ha saputo legittimare il suo primato in classifica con una gara molto quantomeno molto vogliosa molto volitiva forse qualitativamente non eccezionale ma nel secondo tempo però alcune trame sono stati interessanti però ci provano gli abbezzali con dei lanci lunghi è chiaro che non possono sobbettire un impianto di gioco che li ha visti stare tutti dietro si è ragliati di cercare di partire solo con dei lanci lunghi comunque che hanno messo poche volte in difficoltà la difesa del Tocalcio spesso però o almeno in qualche circostanza ce fa rire il portiere è dovuto uscire fuori dall'aria per colpire il pallone poi è arrivato il gol di Carlina il 26esimo a come dire concretizzare una supremazia notevole che aveva avuto un sussulto solo al decimo minuto perché questo palo che abbiamo detto e un minuto dopo poi lo stesso giocatore De Marco aveva avuto un'occasione in aria un'occasione che poi un'occasione in aria che è stato per la quale è stato anticipato diciamo l'ultimo tuffo comunque sia mancano 4 minuti alla fine regolamentare di questo incontro il calcio in vantaggio abbiamo detto giustamente il gol al 26esimo di Carlini un tiro che ha battuto sulla traversa per poi dopo inzaccarsi successivamente pochi secondi prima lo stesso Carlini aveva colpito di testa molto bene sul calcio d'angolo di Benedetti e un difensore per precisione Finucci lo aveva il numero 15 che vediamo di spalle e aveva levato la palla dal 7 con un bel colpo di testa poi dopo l'azione è continuata e diciamo la voglia di segnare il trocalcio è venuta e ha avuto la meglio con questo gol di Carlini festeggiato poi con chiaramente grande foga dai compagni perché insomma è una partita questa che diventa importante ormai se ci si avvicina alla fine del giugno d'andata ne mancano due alla fine di questo campionato questo giugno d'andata e chiaramente c'è bisogno un calcio che è imbattuto ma che dicevo c'è bisogno di mantenere di confermare il primo posto in classifica perché lo Scandicci è vicino a se stese Puzzi è seconda è vicino a tre punti insomma ed è chiaramente una si rischia poi di come dire di perdere una situazione molto importante ci prova un qualche lancio lungo il Valentino Mazzola però Benedetti con eleganza gioca la palla su Carlini che triangola ancora con Benedetti molto bene che va al tiro e la palla sfiora il pad il portiere c'era tuffato e ha viziato non so chi l'ha toccato il portiere no il portiere no forse è un giocatore che ha contrastato il tiro può darsi anche non mi sembrava però l'arbitro è lo stesso giocatore che ha colpito il pallone è vittima di crampi e c'è dunque quando mancano due minuti alla fine della partita Marzicano che lo aiuta poi arriva anche il Mazzaggiatore chiaramente ha corso molto Benedetti ha giocato non male all'interno di una partita diciamo che ha regalato un gioco spumigiantissimo però la pressione del tau calcio nel secondo tempo si è fatta molto sentire e abbiamo detto senza problemi che il risultato è giusto e che quindi la vittoria se arriverà come sembra in questo momento è più che legittima ancora una palla in aria però ha imperato che la può rigiocare il controllo non è perfetto il contrasto anche e Senesi può partire in contropiede Tocchini però fa buona guardia e poi conquista anche una rimessa in gioco anzi no sì sì no è rimessa in gioco del tau calcio Landi chiama Biagi attorno di una buona partita anche a servizio della squadra mi sembra di poter dire ancora Landi rimessa laterale il tau calcio in questo modo oltre che tiene lontana la squadra avversaria dalla sua area imperato gioco sul fondo è entrato con una buona decisione in Prato e ha fatto entrato subito in partita giocato bene da 4 minuti di recupero 4 minuti di recupero quando siamo ormai appunto al 35esimo esatto 4 di recupero mentre intanto arriva la notizia che gli allievi regionali elite hanno vinto la settima partita consecutiva fuori caso a Forcoli con molto rimaneggiato insomma sono belle notizie per un settore giovanile importante come quello del tau calcio che chiaramente lavora sì per il futuro dei ragazzi insomma però quando partecipi ai campionati regionali vuoi anche vincere e il tau calcio con i giovanissimi regionali che stiamo vedendo è prima e con quell'altra sarà seconda dopo un recupero eccezionale e non ci stupiremo se a fine stagione dovesse continuare questo ritmo potrebbe anche agganciare la prima o addirittura superarla che lo sa vedremo sarà anche se la prima è una buona squadra sicuramente anche gli allievi stanno onorando il nome del tau calcio e stanno giocando una buona partita passano in tanti minuti ne sono passati uno e mezzo di recupero da quando il direttore di gara ha assegnato questi quattro di recupero c'è la posizione di Marsicano che buttrà la palla nel centro dell'aria appunto ancora il colpo di testa da parte di Imperato che prolunga il pallone il trattore del pallone la pallava fuori il portiere in questo caso sembrava ampiamente in grado di intervenire dunque è rimessa in gioco la di Pallanti messa in gioco corta Imperato combatte con Senesi squadra che combatte che gioca il calcio ripeto io ripeto ancora la prima volta che lo vedo non ha espresso un gioco eccezionale però la voglia di vincere e la personalità quella si vedono occhio nudo perché è veramente una squadra che nel secondo tempo ha voluto pur non giocando forse la sua migliore partita pur affrontando una squadra molto chiusa ha voluto la vittoria e per il momento ci sta riuscendo chiamano la palla cefariella una palla lunga il portiere la tende al limite dell'area valutandone bene la traiettoria sono passati due minuti dei quattro di recupero il calcio in vantaggio e Caselli ha la possibilità di attaccare ancora la palla per il giocatore c'è forse un colo di mano di di Finucci anzi no è di Magazzini il giocatore che lo ha contestato vediamo ancora però provvedi in avanti l'invio non perfetto da parte di Chiti ma è ancora il giocatore numero quattro Senesi uno dei più attivi dei suoi a giocare la palla sull'esterno poi Biaggi manca il contatto di testa ancora Senesi anzi era Finucci provvedi viene bloccato toccaoci che poi ripartiene in contropiede con Caselli Caselli chiama in causa Benedetti c'è Caselli in l'intero dell'area mentre un giocatore del giocatore appunto del Valentino Mazzola accusa un colpo sembra una parte del re nel cosiddetto sono posti pericolosi bene che venga fatto vedere subito e dunque quando manca ormai un minuto alla fine di questa partita o ancora meno il tau calcio risentirà sicuramente la palla agli abbezzani poi però l'arbitro dovrebbe fischiare alla fine della partita e quindi si profila l'ennesima vittoria di questa squadra che si consolida al primo posto in classifica in attesa di sapere cosa avranno fatto le avversarie di sicuro però vincendo mantiene tre punti di vantaggio almeno sulla seconda e quindi guarda con ottimismo questo girone di andata che si conclude questo anno solare che va a terminare ma quello calcistico è in piena svolgimento in piena attività la remessa in gioco è per la scuola di Siena che restituisce la palla al tau calcio Cefariello la gioca con i piedi la prenderà la calcio a lungo fra poco però arriva il fisco dell'arbitro che sancisce la vittoria del tau calcio e dunque il consolidamento del primato in classifica per una squadra che ha dimostrato di avere molta molta personalità e anche qualche individualità però più che altro la voglia di vincere è quella che è sembrata più chiara hanno colpito dei pali hanno sabotaggi sulla linea almeno due insomma tau calcio che è la prova di tutte per vincere poi c'è riuscita con un colpo di Carlini al 26esimo mentre l'arbitro sta consultando al cronometro e ci sarà fra poco il fischio finale e la vittoria del tau calcio nei confronti del Valentino Mazzola però c'è ancora una rimessa in gioco per la scuola di Siena la palla va fuori il pallone per il tau calcio ormai ripeto siamo veramente alla fase finali ed ecco proprio che arriva il fischio di Danilo Ricci arbitro di Pisa che ha diretto diciamo abbastanza bene in questo incontro fischiando molto molto poco e il tau calcio batte il Valentino Mazzola di Siena 1-0 gol di Carlini al 26esimo al secondo tempo si consolida in vetta la classifica di questo girone del campionato giovanissimi regionali e lì con questo gol di Carlini abbiamo detto al 26esimo la signora Faluzzi che vi ha parlato vi ringrazio dell'ascolto e risentirci ai prossimi appuntamenti con il Silvano Cortopasso e la parte tecnica che mi stavo dimenticando ma che è più importante di me dicevo vi ringrazio dell'ascolto e appuntamenti alle prossime gare del tau calcio giovanile Sì sì perché chiaramente avendo fatto una buona partita fino a un fondo ormai l'obiettivo era portata di mano e quindi magari quando perdi un po' di rammarico c'è sempre domenica scorsa invece la sestese la disfatta fu iniziale perché praticamente dopo un quarto d'ora stava già 3-0 ero ancora più arrabbiato oggi sono arrabbiato perché chiaramente ripeto l'obiettivo ormai era quasi raggiunto e quindi magari dispiace di aver perso però insomma sicuramente oggi sono contento della mia squadra di quello che hanno messo in campo e come hanno giocato C'è stata una fase in cui avete colpito un palo avete avuto un'altra occasione forse poteva cambiare le sorti dell'incontro vabbè chiaramente la partita l'ha fatta il Tau non è che l'abbiamo fatta noi però effettivamente nel secondo tempo abbiamo avuto qualche chance in attacco e a parte il palo appunto lì era stata una buona conclusione è capitato un paio di palle dove il nostro attaccante non ha calciato bene la palla da posizione molto favorevole però ripeto non è che se se avessimo vinto noi sicuramente insomma non sarebbe stato meritato dal punto di vista del gioco è stata una partita appunto mi ha detto lei è bilibrata e chiaramente il Tau ha fatto qualcosa in più l'ha fatta insomma anche loro mi sembra hanno avuto il palo anche loro insomma sono andati vicino a far gol non tante volte perché la nostra squadra ha giocato bene ha difeso con grinta ha difeso ha difeso bene insomma quindi non è che il Tau ha essere reato chissà quante palle gol nitide però sicuramente anche solo nei calci d'angolo dove poi fra l'altro è nato anche il gol quando in calci d'angolo avete battuto i tanti tutte le volte insomma stavo un po' in apprezzione perché chiaramente la possibilità di subire il gol c'era è evidente e dal punto di vista del gioco invece la mia squadra devo dire che ha controbattuto bene insomma e quindi non è che si è concesso tanto insomma nel finale eventualmente ecco io penso la partita del Tau l'ha vinta con qualche cambio perché sicuramente quando ha messo giocato i rifreschi non è che diminuiva la qualità e il valore dei giocatori che inseriva rimaneva una qualità medio alta fisica soprattutto messa bene mentre la mia squadra insomma chiaramente non è che tanti tanti ambi in più oltretutto oggi ci mancava anche ci è mancato il portiere nel riscaldamento che si è fatto male nell'ultimo tiro un porta che è stato fatto se non ha potuto giocare e due giocatori mi mancavano e no veramente quando mi manca qualche giocatore non abbiamo tantissime alternative insomma mentre il Tau mi è sembrato quando ha messo anche quelli erano un panchino insomma la qualità rimaneva elevata insomma e lì eventualmente ha vinto la partita Siamo alla fase finale di questo giugno d'andata secondo lei la classifica rispecchia i veri valori espressi fino ad oggi? Sì praticamente non ci manca ancora da incontrare lo Scandici è sempre navigato nella zona alta della Lassifia io sinceramente ho visto un campionato di alta qualità insomma dove le squadre che giovano bene ce ne sono diverse il Tau è veramente una di feste però anche altri mi hanno impressionato domena scorsa ripeto la se stessa a noi ci ha strapazzato ha chiuso la partita non solo quarto d'ora oppure per esempio mi ha impressionato anche la Virtus di Firenze ora mi sfugge il nome Cattolica da noi ha giocato molto bene che fra l'altro la partita si è anche vinta però devo dire che a livello fisico di corsa sì mi ha impressionato anche altre squadre hanno visto il campionato il Tau sicuramente è una candidata ma ci avrà da lottarselo perché mi sembra che ci siano anche altri candidati altrettanto valide Fabrizio Neri presidente del Tau Calcio una giornata importante perché ha vinto tutte le squadre con qualche apprezzione precedente la gara il presidente era passato a salutarci e ha detto oggi sono un po' preoccupato sì sì ero preoccupato un po' perché il Tau negli ultimi tempi non era quello delle prime giornate dal punto di vista del gioco e poi insomma c'è stato anche qualche pareggio anche se squadre avversarie molto importanti candidate per la vittoria finale temevo questa partita perché conoscevo i valori di questa avversaria sapevo che giocano bene a calcio sapevo che hanno tanti ragazzi interessanti e so che hanno messo in difficoltà tutte le avversarie una partita poi sbloccata nei minuti finali però lo diceva anche l'allenatore dell'altra squadra il Tau Calcio ha dimostrato di essere superiore sì credo che la vittoria possa dirsi meritata anche se diciamo gli episodi non sono stati tantissimi perché è stata abbastanza equilibrata loro si sono difesi molto bene nel secondo tempo però a mio avviso il Tau ha meritato proprio perché li ha chiusi nella loro metà campo loro praticamente a parte nei minuti iniziali che hanno anche colpito un pallo in contropiede non sono più usciti e noi siamo riusciti anche se con fatica martellando a trovare la via del gol sfiorato anche prima in precedenza è un momento positivo dicevo mentre i giovanissimi si confermavano al capolista gli allievi hanno vinto la settima gara consecutiva insomma il Tau Calcio c'è sì sì il Tau Calcio c'è gli allievi hanno fatto secondo me un risultato stratosferico perché sono andati a violare un campo molto ostico come quello del Forco di una squadra in salute con una nostra squadra con tutto il rispetto dei ragazzi che hanno giocato però con molti molti ragazzi assenti credo addirittura 6-7 giocatori titolari per cui veramente una vittoria fondamentale anche perché è la settima di fila da quando è venuto Paolo Baldi e quindi un'inversione di tendenza incredibile al di là dei risultati agonistici ci sono poi anche risultati diciamo di attività generale c'è un ragazzo che giocava nel Tau Calcio convocato nazionale insomma in Tau Calcio due ecco sì quindi insomma un bel momento sì è un momento positivo noi continuiamo a lavorare da tanti anni cercando sempre di migliorarci comunque le difficoltà che aumentano sempre di più perché tutti voi sapete quanto questo periodo sia difficile a tutti i livelli viviamo una situazione economica che condiziona un po' tutte le attività e anche lo sport in genere noi cerchiamo di mantenere il livello qualizzativo delle nostre squadre soprattutto tenendo degli istruttori qualificati lavorando con un progetto che dura da tempo che è continuativo con un rapporto che sempre di più si sta consolidando con l'Inter cercando di migliorarci e di stare sempre al passo con i tempi Maurizio Guidotti una bella vittoria anche se l'ha stintata o quantomeno combattuta è una vittoria patita fino a un fondo ma ci capita ultimamente che per fortuna che chi entra dalla panchina cambia sempre il volto alla squadra è stata dura non è che abbiamo giocato benissimo però abbiamo preso un palo una traversa un salvataggio sulla linea una bella parata si aspetta tempi migliori anche l'allenatore dell'altra squadra appunto mettendo in evidenza come i cambi della panchina abbiano creato ulteriori e maggiori pericoli i cambi bisogna anche creasseli perché se non si fanno giocare mai poi non ci sanno qui tutte le domeniche ne cambio 5-6 e giocano insomma il tuo calcio resta capolista ancora non sarà l'altro risultato ma comunque si asce sempre almeno 3 punti di vantaggio sì vabbè ora noi dobbiamo pensare a noi poi quando manca due giornate alla fine si guarda è talmente lungo il campionato è talmente equilibrato che la prima può perdere in casa dell'ultima per stare a vedere due punti tre punti di vantaggio secondo me non voglio dire nulla noi dobbiamo pensare a noi poi dopo quando sarà il momento potremo fare i conti ora è troppo presto telnet systems vendita installazione e manutenzione di centralini telefonici fibre ottiche video sorveglianza sicurezza di rete e networking richiedi subito un preventivo telnet systems via Tazio Nuvolari 53 Carraia Lucca telefono 0583 98 33 22 www.telnet systems.it 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 Grazie a tutti